La posizione del sindaco Mascaro sul piano di dimensionamento scolastico fa discutere. È stato approvato il piano della provincia che colpisce anche le scuole lamettine, strade e piazze piene di studenti, docenti e cittadini per difendere l'autonomia dell'istituto comprensivo di Santa Eufemia e le scuole superiori. Secondo Mascaro il taglio delle autonomie è uno dei target per avere le risorse del PNRR. Ha motivato così il suo voto alla conferenza dei sindaci con 36 voti favorevoli su 40 i presenti e solo tre voti contrari con un solo astenuto. Il Partito Democratico ha parlato di un fatto senza precedenti che un sindaco non difende il suo territorio e i suoi cittadini e che su un tema così importante come il dimensionamento scolastico il Consiglio non si sia pronunciato né ha riunito i dirigenti scolastici. Chiedono così le dimissioni immediate del sindaco Mascaro.